La Giunta Comunale di Ribera ha approvato il progetto definitivo per la partecipazione al bando Vivere e Viaggiare nel distretto rurale di qualità del Gallesicani. Partner del progetto è il Consorzio Turistico Costa Sicana che ha partecipato all'avviso pubblico di manifestazione di interesse. Ribera fa parte assieme ad altri 27 comuni del gruppo di azione locale Sicani e ha deciso di investire le risorse aspettanti ad interventi che riguarderanno la segnaletica turistica e il polo culturale. Il finanziamento richiesto è di 125 mila euro. All'incirca 40 mila euro saranno destinati alla realizzazione della segnaletica turistica e delle attività produttive locali che hanno aderito al progetto. La parte più consistente sarà invece destinata al polo culturale che sorgerà presso il Teatro di Via Berlinguer. Una delle opere pubbliche incomplete della città crispina sulla quale l'amministrazione ha deciso di investire fondi del bilancio comunale per completarne una parte da Ribera Centro Culturale. La struttura sarà inaugurata nelle prossime settimane aperta al pubblico. Con il finanziamento nell'ambito del Gallo Sicani si procederà poi all'arredamento, agli impianti di amplificazione con l'acquisto di hardware e la realizzazione di un portale turistico collegato al Gallo Sicani. Il sindaco Carmelo Paccio ha evidenziato il lavoro svolto degli uffici comunali che hanno redatto il progetto e la collaborazione dei vertici del gruppo di azione costiera Sicani. Questo finanziamento, aggiunto, ci permetterà finalmente di aprire battenti seppure parzialmente della struttura teatrale mai completata nell'ospicio che i giovani riberesi e non solo loro possano avere un'opportunità di incontro e di crescita non soltanto ai fini turistici. Grazie a tutti.